La Camera di Commercio di Pistoia Prato ha avviato la ricerca e selezione di aziende estere, grandi gruppi industriali specializzati disponibili a valutare profili di imprese italiane per un eventuale inserimento nel loro portafoglio e fornitori esterni. La ricerca di partnership portata avanti dall'Ufficio Internazionalizzazione dell'ente camerale riguarda il comparto della meccanica. In questa prima fase la valutazione avverrà online attraverso il coordinamento della Camera di Commercio che raccoglierà le candidature delle imprese del comparto meccanica di Prato e Pistoia. Qualora si riscontrasse un adeguato interesse da parte degli operatori stranieri saranno organizzate delle video call di approfondimento tecnico commerciale. L'iniziativa è gratuita e riservata alle sole aziende in regola con il pagamento del diritto annuale delle province di Pistoia e Prato del settore meccanica. Il settore meccanica nelle due province è molto importante e soprattutto coinvolge un indotto altrettanto importante che spesso non è facile promuovere perché sta dietro alle produzioni principali per cui si conosce meno facilmente. Con questa iniziativa la Camera intende promuovere questi fornitori di prodotti o servizi presentandoli direttamente a dei operatori industriali esteri molto importanti che spesso hanno bisogno di lavorazioni trasversali e quindi hanno bisogno di ampliare il loro portafoglio fornitori. In particolare a quali mercati si cercherà di rivolgersi? Per facilitare questo lavoro cercheremo inizialmente di rivolgersi a mercati vicini, quindi europei, fondamentalmente Germania, Austria, Inghilterra. Abbiamo già iniziato una prima indagine preliminare che è tesa appunto a valorizzare il distretto. Siamo in attesa di raccogliere i profili delle aziende di Pistoria di Brato per presentarli direttamente a questi gruppi industriali. Quindi chi volesse candidarsi e partecipare come deve fare? A tempo fino al 21 novembre può andare sul sito delle due Camere di Commercio e troverà la manifestazione di interesse. Sarà particolarmente importante segnalare non soltanto la specializzazione produttiva ma soprattutto se è in possesso di certificazioni particolari e segnalare eventualmente lavori già svolti in passato perché è questo che guardano gli stranieri, guardano le certificazioni, guardano i lavori già svolti. Grazie.